Ciao ragazzi e ciao ragazzi, in questo video devo far vedere le mie 5 scoperte del momento e questo è il mio secondo canale, quindi vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritti Ho pensato di farvi questi video in cui periodicamente vi faccio vedere queste cose diciamo nuove nuove scoperte magari che posso comprare al suo mercato oppure al discount, quindi cose economiche fondamentalmente ho pensato che vi potesse interessare, insomma piccoli video proprio con le cose che mi sento di segnalarvi perché sono buone costano poco e quindi convengono Questi qua che ho comprato di recente, voi sapete che io compravo sempre quelli della coppa integrali, i frollini semplici di recente ho preso questi qua e sono molto molto buoni, sono molto semplici, somigliano tantissimo ai plasmon non mi veniva il nome, comunque biscottini dei bambini, sono molto molto semplici quindi secondo me possono piacere un po' a tutti, hanno ingredienti sani, voi sapete che io ci tengo tantissimo ai prodotti a prescindere che siano bio, come in questo caso, ma proprio che abbiano ingredienti sani quindi ecco perché vi voglio fare questi video, prodotti senza olio di palma, comunque senza ingredienti dannosi abbastanza diciamo light, comunque fondamentalmente sani, anche senza spendere tanti soldi quindi non bisogna per forza andare al negozio biologico, si trovano anche al suo mercato ormai ce la stavamo facendo, si stanno diffondendo ragazzi, questi sono molto molto buoni e non sono vegani perché hanno le uova, però sono molto sani, abbastanza leggeri ovviamente senza olio di palma, senza schifezze, sono buoni buoni questi qua nel latte proprio la zuppetta nel latte sono proprio ad hoc questa è la nuova scoperta assolutamente del periodo di cereali, voi sapete che i cereali spesso al suo mercato sono un capello che mi disturba, vabbè comunque sono pieni di schifezzine varie eccetera questi sono i meno peggio, quelli che si salvano, sapete comunque su prodotti confezionati io preferisco le colazioni fatte in casa eccetera però sono buoni ragazze perché sono integrali e sono al cacao quindi hanno un ottimo sapore e senza olio di palma, senza troppo zucchero sono proprio buoni buoni questi qua si chiamano albera in cioco e l'unica cosa è che vi danno proprio una dipendenza sono questi qua fatti così io da quando li ho comprati veramente non smetto mai di mangiare me li metto nel latte vegetale freddo sapete che amo il latte vegetale e li adoro troppo ve li abbiamo mostrato e mia sorella nell'ultimo video vlog che abbiamo fatto perché li abbiamo comprati al Carrefour ma vabbè si trovano in qualsiasi supermercato comunque io vado sempre alla ricerca dei prodotti biscotti, cereali che hanno ingredienti buoni questi però li abbiamo comprati all'Ocean infatti vi abbiamo fatto il video di tutti i prodotti che abbiamo comprato all'Ocean non mi ricordo se questi ve li facciamo vedere o vi facciamo vedere quelli là al limone perché ci sono vari gusti ma questi al cioccolato sono i nostri preferiti come al solito controllate sempre perché non tutti i prodotti di Ocean Bio sono buoni questi sì perché comunque non hanno olio di palma hanno soltanto olio di girasole cacao magro sono molto molto buoni non hanno neanche tante calorie comunque sono abbastanza piccolini sono perfetti per una colazione sana insomma a proposito di tortini anche questi qua che questi qua li ho comprati a Nizza se avete visto i vlog che ho fatto delle mie vacanze in questi suoi mercati che si trovano in tutta la Francia comunque mi sono innamorata di questi tortini che sono buonissimi al cioccolato e ne è rimasto solo uno quindi ve lo faccio vedere comunque sono buoni 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 e non hanno praticamente burro non hanno nulla di danno sono molto leggeri molto sani e molto buoni quindi io li voglio fare in casa infatti sto sperimentando un pochino per crearmi una ricettina e appena ho una bella ricettina vi faccio questi tortini al cioccolato buoni buoni copiati da questi che va a novità quindi ho scoperta sono queste qua voi sapete che io sono molto molto amante delle gallette le mando tantissimo e soprattutto queste a cioccolato mi piacciono tanto e queste secondo me sono tra le migliori in assoluto a livello di qualità e di prezzo le compro al discount MD che al nord vi appare si chiama LD queste sono buonissime sono gallette di riso integrale ecco mi piace tanto la composizione degli ingredienti perché contengono riso integrale e cioccolato fondente stop quindi non hanno ulteriore zucchero aggiunto oli nulla quindi sono fatte semplicemente da riso integrale e cioccolato fondente provatele ragazze io le adoro troppo e le adoro tanto come merenda merenda pomeridiana prima dello sport ma anche una colazione bella energica e buona sana perché comunque il cioccolato fondente come vi dico spesso non fa male mangiato come moderazione veramente fa bene e non fa ingrazzare quindi questo è tutto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace un bel pollice in su così ne faccio tanti altri belli brevi brevi con tutte le novità a noi scoperte quindi presto presto a presto a presto e quindi vi mando un bacio grandissimo ciao ciao